Poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per una pena definitiva. Una 64enne, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Gela all'espiazione della pena detentiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al recupero della pena pecuniaria di 6.800 euro per i reati di ricettazione in concorso e riciclaggio aggravato. Dopo gli adempimenti di rito, l'arrestato è stato condotto dagli agenti della Polizia di Stato presso la casa circondariale di Gela.